Giulio Ortolani, ciao Gesùa, se la tua ex ti scrive mentre col suo ragazzo, cosa significa per te? Che ti sta pensando e vuole fartelo sapere. Ragazzi, ribaltiamo la domanda che così la capiamo meglio, perché mi piacerebbe farvi pensare a una cosa. Cosa pensate voi quando succedono queste cose? Cosa pensate voi di quando una donna vi scrive mentre col suo ragazzo? Perché vedi, è sempre questione di focus. Voi cercate, ma cosa significa quando lei è col suo ragazzo però scrive a me? Vedete che avete, nella domanda c'è, questa domanda è intrisa di speranza, è intrisa di, ah, probabilmente io sono più attraente dell'altro. Ragazzi, questa roba vi fotte nel lungo periodo, eh, ve lo dico subito, perché poi se lei comincia a messaggiare con un altro, oppure siete con lei e la vedete al telefono, cazzo fate un trigger istantaneo di quello che è successo a voi. E non è bella questa cosa. Voi dovete essere impermeabili a queste cose. Perché poi adesso magari ci faccio, adesso ve la spiego bene prima, però fammi finire di rispondere a Giulio Ortrano, non mi ricordo. Ok, fa... Saluto ragazzi, ti schemi mentre... Cosa significa? Ritornando al discorso, scusate, comincio ad essere un po' cotto, ehm, questa domanda potremmo aprirla al massimo, potremmo aprirla a tirar fuori tutte le idee sbagliate che avete sull'attrazione da questa semplice domanda, Giulio. Ragazzi, io ve lo dico qua, non entrate nel mondo del capire come funzionano i rapporti tra uomo e donna davvero, se non siete pronti. Cioè, non entrate finché siete in tempo, perché appena entrate e cominciate a capire quanto è controintuitivo, quanto tutto ciò che avete sempre pensato e creduto è completamente sbagliato. Ragazzi, c'è, subite una botta che avete un occhio aperto, un occhio chiuso. Minchia, è difficile, sì è difficile, la trazione è un bagno di merda, lo dico sempre. Se è un bagno di merda, però appena cominciate a capirla, vi dà molte soddisfazioni. È un bagno di merda iniziale. Vi ritrovate all'inizio in un deserto, siete completamente smarriti, avete tutti intorno a voi che stanno vivendo le loro relazioni a caso, che probabilmente non sanno tutto quello che sapete voi, e poi però si ritrovano alla fine di una relazione che si mette in atto quella cosa che ho detto all'inizio. Cioè, se una donna dice non ti amo più, metto in atto quel sistema di recupero, che purtroppo è sbagliato. Perché è sbagliato? Perché parte da una base sbagliata, parte da credenze sbagliate. Provate a pensare solamente a noi come uomini, quando... per raggiungere il successo, ok? L'abbiamo detto prima con l'iceberg, no? Ci impegniamo, capiamo dai nostri errori, alcuni poco, però va bene. Vogliamo risolvere le situazioni, se qualcosa va male la aggiustiamo, ok? E questo che cosa ci dà? Il risultato, cioè l'obiettivo raggiunto. Con le donne, ragazzi, non funziona così. Per ottenere una donna, per ottenere attrazione e duratura, voi in verità dovete ragionare al contrario. Dovete fare meno. Perché? Perché se io adesso faccio tanti video, provate a pensare, io faccio tanti video e venite in consulenza, prendete i miei programmi coaching, prendete i miei corsi, ok? Quindi ho un risultato che i miei contenuti aiutano sempre più persone, piacciono e comunque li acquistate. Ci siamo, perfetto. Con una donna non è la stessa cosa, ma perché? Perché lei è un essere umano. Io, se faccio tanti video, mi confronto con il mio business, ok? Il mio progetto, perfetto. Quindi più mi impegno in un progetto, ho anche, ho parlato proprio di recente con un ragazzo, lui è un ristoratore, sta aprendo il quarto ristorante in questo momento. E è un avere a che fare con un qualcosa di vivo, ma per lui, cioè fa parte lui, ok? Io mi impegno nel mio business, mi impegno nel raggiungere i miei obiettivi. E più mi impegno, più raggiungo dei risultati sempre più grandi, ok? Ci siamo, è la stessa cosa che sto facendo io con voi. Benissimo. E sicuramente voi fate nella vostra vita. Perché? Perché essere uomini questo. Nelle relazioni, il nostro obiettivo, ed è per quello che è sbagliato fare dell'obiettivo la nostra donna, è che è una donna. E la donna non ragiona come voi, ok? Nel senso che se voi fate dell'obiettivo, il vostro obiettivo numero uno, la vostra donna, è lei, dopo un po' prenderà una decisione, è lei che perde attrazione. Se io mi impegno nel mio business, e nei miei corsi, e a creare sempre più corsi, fare sempre più video, non è che i miei video e i miei corsi, dopo un po' mi abbandonano, sono i miei, li ho fatti io, ok? In quel caso è il vostro obiettivo che vi abbandona. È per quello che non dovete mai fare dell'obiettivo, il vostro primo obiettivo, la donna, ma lasciare che sia lei a fare del suo obiettivo voi, ok? Voi dovete avere i vostri obiettivi, che sono il recupero di... il recupero. Avere sempre, sempre idee nuove, andare in palestra, crescere il vostro corpo, diventare sempre più forti, anche mentalmente, di questo anche, ragazzi, ne parlano, è i tre pilastri dell'attrazione. La palestra non è... Cioè... Io vi vado a dire troppo, non va bene queste cose qui. Faccio anche la tronco qua, perché sarebbe meglio. No, dai, la chiudo. Chi si focalizza soltanto sull'andare in palestra è ovviamente una persona che sta comunicando che ha un obiettivo e lo sta perseguendo, ok? Vi faccio soltanto una domanda. Siete fighissimi, siete delle bestie, ma come mai io ho tantissimi personal trainer che vengono in consulenza a me e attivano dei programmi di coaching? Perché? Perché quella roba lì non basta. Se voi... Se quella cosa, che comunque è un'ottima cosa, attenzione, è un'ottima cosa se sapete il significato e il fattore attraente per le donne. Ma se a quello non abbinate altre cose, e ne parlo nei miei corsi, porca troia c'è, porca troia c'è, sarà... sarà un'arma a doppio taglio, ok? Io ve lo dico così. Se voi dite sono forte, sono... Che non vuol dire non esserlo. Attenzione, non credete a quelle persone che vi dicono sei magro e quindi puoi attirare lo stesso se sai queste tecniche. No, quello è un messaggio per chi vuole la scorciatoia. Ci siamo? Ci siamo. Io direi che la... Questa cosa l'ho fatta capire. Ragazzi, non credete a quelle puttanate lì. C'è da sbattersi in questo mondo. che credete a quelle esclare. E' un messaggio